Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Arrestato dalla polizia uno spacciatore a Pesaro, l'uomo teneva in casa anche una pistola clandestina Sorvegliato speciale e rapida, una farmacia a pochi metri da casa, fermato un campano di 45 anni Slitta la prossima settimana, l'addio a Jennifer e Arianna, le bimbe rimaste vittime di un tragico incidente Verranno seppellite a Sant'Angelo in Vado Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Lo avete sentito dai titoli, la polizia ha arrestato un pensionato che spacciava nel centro storico di Pesaro A casa dell'uomo gli agenti hanno trovato anche una pistola clandestina Era già stato arrestato un anno fa insieme al figlio che si trova tuttora in carcere E a pochi mesi di distanza è stato scoperto di nuovo a spacciare droga A finire di nuovo in manetta è Antonio Tommaso Galtieri Un calabrese di 62 anni e residente a Pesaro Arrestato dalla polizia dopo diversi pedinamenti Gli agenti della squadra mobile sotto la guida di Silio Bozzi Lo hanno trovato in possesso di un grammo di sostanza stupefacente Già suddivisa in dosi e della somma di 500 euro in contanti Ritenuta essere il provento dell'attività illecita Inoltre durante una perquisizione effettuata nella sua abitazione Sono state sequestrate altre 26 dosi di cocaina Due involucri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento Oltre a questi però i poliziotti hanno trovato una pistola semi-automatica Beretta Con un caricatore munito di 5 proiettili L'arma è priva di segni distintivi e quindi è clandestina Abbiamo trovato questa pistola, è una pistola di piccolo calibro Anzi il calibro più piccolo in senso tecnico Se è 35 però è una pistola da non sottovalutare Di piccole dimensioni ma non di piccola pericolosità Perché è già stata questo tipo di pistola Non questa ma questo tipo di pistola Utilizzata anche in numerosi casi di omicidio Alcuni dei quali famosi come quello di Veroli a Roma L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto del pensionato Disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere In attesa del processo Le indagini però proseguono per capire dove è stata presa quest'arma E che uso ne è stato fatto Saranno predisposte delle perizie tecniche Volte a stabilire se l'arma è stata utilizzata In altri episodi di sangue La Guardia di Finanza di Pesaro ha sequestrato gettoni di presenza Trattamenti di fine rapporto e fondi per 150.000 euro alla Confart SRL Società di servizi partecipata dalla Confartigenato di Pesaro Fallita nello scorso mese di marzo Tre dirigenti della società sono sotto inchiesta per associazioni per delinquere Finalizzata a commettere reatti fiscali Falso in bilancio e bancarotta fraudolenta A settembre gli agenti del nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle Avevano già sottoposto a sequestro preventivo Beni per circa 210.000 euro Una prima tranche di un totale di 4 milioni disposta dal GIP A carico dei tre indagati Altre 5 persone sono state denunciate a piede libero Per aver agito in concorso Due infine le denunce per reati contro la pubblica amministrazione Ad oggi la montare complessivo dei beni sottoposti a sequestro è di circa 364.000 euro Ancora cronaca E' stato arrestato il bandito che ha rapinato la farmacia di Via Gioliti a Pesaro L'uomo che è stato rintracciato a casa della fidanzata Fano Ha confessato tutto dopo poche ore di interrogatorio Ha perso il lavoro da oltre un anno E trovandosi in difficoltà economica Ha pensato di rapinare la farmacia a 500 metri da casa E' successo lunedì scorso alle 13.30 in Via Gioliti a Pesaro Dove Salvatore Arceno, 45 anni sorvegliato speciale Ha fatto irruzione con il volto coperto da un passamontagna E un ombrellino in mano per ripararsi dalle telecamere Disarmato ha intimato alla titolare di consegnargli l'incasso Ha rubato 1000 euro e poi è fuggito a piedi L'uomo originario di Torre del Greco ma residente a Pesaro E' stato comunque ripreso dalle telecamere di videosorveglianza E i poliziotti della squadra mobile Confrontando quelle immagini con le registrazioni del mattino Hanno notato che alle ore 10 era entrata in farmacia la stessa persona Arceno A rivelare la sua identità è stato il suo strano modo di camminare L'uomo con la scusa di chiedere informazioni su un farmaco Si era recato nel locale per capire meglio come agire durante il colpo Ha detto che la videosorveglianza sicuramente è importante Ma di certo come in questo caso è stato fondamentale il fiuto investigativo Essenziale entrambe le soluzioni La videosorveglianza perché ci dà un dato obiettivo Una ripresa, un particolare E la nostra attività investigativa, l'intuito, il fiuto Permette di completare il sillogismo Quindi di completare e di mettere, per così dire, di chiudere il cerchio Il 45enne, già noto alle forze dell'ordine per una tentata rapina I reati legati allo spaccio, è stato rintracciato a fanno a casa della donna che sta frequentando E dopo quattro ore di interrogatorio ha ammesso le sue colpe Affermando di essersi liberato del bottino e degli abiti che indossava quel giorno Gettandole all'interno di un camion per la raccolta dei rifiuti L'uomo che ora si trova in carcere è stato arrestato per rapina aggravata E violazione degli obblighi della sorveglianza speciale della Polizia di Stato Abbiamo avuto l'abilità di scoprire tante rapine Per i furti è una nota dolente a livello nazionale Però i nostri dati statistici ci dicono di una leggera flessione E questo ci conforta Ma, ripeto, l'attività investigativa dà una risposta conclusiva A tutto quello che può essere un allarme in sicurezza, un allarme della collettività E le soreline nigeriane di 5-13 anni rimaste vittime di un terribile incidente accaduto a Ferminiano Verranno sepolti a Sant'Angelo Invado, il loro comune di residenza L'annuncia il sindaco Gian Alberto Luzzi Che insieme alla parrocchia ha organizzato una raccolta fondi In favore della famiglia per le spese del funerale La data dell'esequio però non è ancora stata stabilita I funerali non si svolgeranno prima dell'inizio della prossima settimana Si attende infatti il padre delle due bambine che è ricoverato da venerdì scorso all'ospedale di Urbino L'uomo ha subito un forte shock consapevole del dramma che ha colpito all'improvviso la sua famiglia Per fortuna stanno meglio la moglie e il terzo genito di 11 mesi rimasti feriti nell'incidente Migliorano per fortuna anche le condizioni di Roberto Diotalevi Il 57enne è rimasto uscionato da una fiammata durante l'incendio Divampato lunedì alla Vib SRL di Rosciano di Fano Le sue lesioni potrebbero guarire in poche settimane Intanto il pubblico ministero ha convalidato il sequestro delle due cabine di verniciatura E dell'area dove i carabinieri hanno trovato 32 sacchi di rifiuti contenenti residui della lavorazione E che si teme possano essere inquinanti Asur e Arpam invece hanno prelevato dei campioni per verificare eventuali rischi per la salute e per l'ambiente Il tetto infatti conteneva mianto ma non c'è stata una dispersione di fibre nell'aria Cambiamo argomento e parliamo di scuola Perché il prossimo anno scolastico verrà chiusa la sezione comunale di raccordo a Gimarra Ne abbiamo parlato con l'assessore del comune di Fano Assessore ai servizi educativi Samuele Mascarini Innanzitutto precisiamo una cosa che la sezione di raccordo di Gimarra è assolutamente aperta in questo momento E proseguirà la sua attività per tutto l'anno scolastico L'unica differenza è che per l'anno 2016-2017 in questi giorni Non si stanno proponendo dei servizi educativi le iscrizioni a quella sezione di raccordo Perché in un piano di razionalizzazione generale dei nostri servizi Abbiamo fatto la scelta di ridurre da 5 a 4 le sezioni di raccordo presenti nel nostro territorio È una scelta però fatta con senso Perché negli ultimi 5-6 anni abbiamo registrato una diminuzione costante, progressiva e importante Delle iscrizioni a questo servizio Che si colloca a metà strada tra il nido tradizionale e la scuola dell'infanzia Quindi è destinato ai bambini e ai bambini della fascia 2-3 anni E visto che le richieste da parte del territorio stanno diminuendo Chiaramente siamo stati portati a fare una razionalizzazione Anche per poter poi potenziare le altre realtà Con le figure professionali che si libereranno a partire dall'anno prossimo Grazie a questa scelta Quindi l'ho preciso, nessun disagio per le bambine e i bambini Che oggi stanno frequentando la sezione di raccordo di Gimarra Né per loro, né per le loro famiglie, né soprattutto per la città Nel 2015 le aziende marchigiane hanno assunto circa 140.000 persone Ma d'altra parte peggiora la qualità del lavoro Lasciando il passo a una dilagante precarietà Secondo gli ultimi dati, infatti, come rivela la CGL delle Marche I contratti a termine giungono a quota 94.000 Pari al 66% circa del totale delle assunzioni Ed esplodono i voucher che nelle Marche raggiungono i 5 milioni Aumentando nel bienio del 200% Il sottosegretario all'ambiente Silvia Velo Inaugurerà domani alle ore 17.30 La palestra Venturini di Fano Che è stata oggetto di una bonifica dell'amianto I dettagli dell'intervento verranno descritti durante un convegno In quale parteciperanno anche la Presidente della Commissione di inchiesta sugli infortuni Sul lavoro Camila Fabri, il sindaco di Fano Seri e gli assessori Cristian Fanesi e Samuele Mascarin Domani sera invece alle ore 21 nella sala Pierino Ciriachi di Marotta Accanto al Bocciotrom verranno presentati il programma e il simbolo della lista civica Marotta Cambiamo di nuovo argomento perché questa mattina sono state annunciate altre novità Che riguardano la quarta edizione del Festival della Saggistica Passaggi Tra queste dei pacchetti turistici e una nuova immagine Ma gli organizzatori ancora non vogliono svelare gli ospiti d'eccezione Servizio di Lino Balestra La felicità possibile è il tema di questa edizione di Passaggi Festival della Saggistica Giunto alla sua quarta edizione in un crescendo rossiniano di consensi e frequentatori Una progressione anno per anno, edizione dopo edizione Che ha fatto sì che gli organizzatori decidessero di fargli fare il salto di qualità Di mirare alto anche in virtù del fatto che le librerie cop hanno inserito il Festival della Saggistica Nel loro circuito al pari di più blasonate manifestazioni come Mantua, Ferrara e Pordenone La dichiarata intenzione di questa amministrazione di puntare forte sull'aspetto culturale Per incentivare un tipo di turismo qualificato e a misura di città Trova riscontro in questo cambio di passo che si è voluto imprimere al Festival di quest'anno Coinvolgendo tutta la città a partire dal suo cuore, la piazza 20 Settembre Noi vogliamo diventare un grande Festival nazionale E grazie alla presenza di librerie cop che ha 40 punti vendite in tutta Italia Fano e Passaggi Festival viene messa insieme a Pordenone, Mantua e Ferrara I grandi Festival nazionali che vengono sponsorizzati dalle librerie cop Quindi un grande cambiamento di passo e chiediamo a tutte le associazioni E alle varie entità della città di Fano ma ai cittadini in modo particolare Di supportarci e nei 4 giorni di giugno, di fine giugno stare con noi in piazza Perché quest'anno il Festival si svolgerà in piazza Oltre alle location nuove anche tutto il pacchetto di proposte dei 4 giorni di festival Per attrarre il turista si distingue dalle passate edizioni Pacchetti turistici e una passaggi card con scontistica Che il tour operator legato alla manifestazione mette a disposizione dei viaggiatori E inoltre laboratori per bambini in piazza Andrea Costa e anche lungo corso Marteotti Mostre e incontri degustativi in ogni punto della città e anche in spiaggia Quest'anno a cominciare dalla location, come si dice, la piazza 20 Settembre Che è il punto più visibile nella città e che dà esalto ovviamente alla presenza di un festival Dice già lunga questa cosa, unitamente alla Mediateca Che è l'altro punto dove saranno organizzate delle manifestazioni importanti E altri punti capillarmente distribuiti nella città che viene un po' invasa in modo bonario Da queste iniziative che abbracciano il tema della cultura ma anche quella dello stare insieme, del degustare vini Ci sarà coinvolta a piazza Cavour anche lo stesso San Francesco Che è questa piccola San Galgano nel centro storico che piace molto In modo tale che il passaggio festival giunto alla quarta edizione sia l'occasione straordinaria per parlare di Fano sempre di più E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna puntuale domani sera alle ore 20 e 30 Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata Grazie a tutti